Onorevole, le coperture finanziarie sono un bloggere, è un problema di tutte le leggi che vengono proposte. Le coperture finanziarie le proporrà il governo. No, ma i 98 miliardi dei biscassieri, i 4 miliardi del Monte Passi. E' sempre le solite cose tutte? E' sempre le solite cose che le hanno fatte già, le hanno risolte i problemi. E' visto che le hanno risolte i problemi?